Buongiorno, buongiorno un cazzo, ma perché? Perché degli affancuro? Oh, adesso sì che va bene, che stai a fare? Fammi scocciare i bicchieri, c'è tanto nient'ante. Ma ti trema il braccio. Ma a me mi trema il cazzo. Questi no così, fammi c'è una cosa bellina, cioè tipo... Ma a me! E per te quello? Ma perché? Fammi c'è una cosa bellina, tipo... Ma perché? Perché degli affancuro. Anche quei? Fermate! Che stai fa uno? Ah, che stai fa? Che stai fa? Mette il burro sul piatto. E beh. E che c'è fai? Il magno? No, è troppo. Non è troppo? Oh, e te l'ha levato il coglione? Ma scusa, eh. Tutto sto burro... Tutto sto burro riburrato con doppio burro riburrato al burro riburro. Che dieta è? Eh, ma poi cazzo è meglio. E dopo? E dopo fatti tu e facci impare. E poi? Oggi finalmente una bella carbonara! Che cazzo! C'è ragione, eh? Tacchino! 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 Saranno troppi? Eh, ma va a far su! Saranno troppi? Sì! Ma attenzione, sto vedendo un movimento sospetto. Si sta alzando il vento, si è abbassata la temperatura, si è calmato il vento. Molte nubi e sta nevicando, incredibile! Sta nevicando veramente forte, pur essendo un periodo quasi finestivo, ma sta nevicando. La prima neve è incredibile, riaprono tutti e sceggeo vie, puni vie, ski lift, ski pass, sta nevicando, incredibile! In tanti me lo chiedete, cosa vuol dire arzughe? Guardate! Quando you put the spaghetti in the mouth, dentro la bocca, in the bocca, and you do like this sound, it's arzughe. Capito, no? Arzughe is aspiration. Io non ho capito niente. E se te levo di coi, io mi fai un piacere. Allora, traduzione. Non lo capisca, ma se ti sceggeo i tuoi piacere, è meglio. Vero? Boh! Quindi, bisogna essere anche un po' internazionale. Oh no! Eh! Vuoi giocare a padel? Vuoi giocare? A padel. A padella? Eh, vuoi giocare a padel? Ma vaffanculo tu e la padella! Dai, dai! Ma cammina, che io non sei giochendo a queste cose? Dai, no, fammi due scambi, vai! Fermati! A padel, dai! Ma non è già in croce strano! Giocamo a padel! Adesso se lo beva, mi ha sporca tutto! Ma è un albicocco! Ma cammina, va a spazio! Giocamo a padel, dai, 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 senti! Levate! Dimmi un pronostico, secondo te che fa? Perdo! Un'altra volta, perdo! Dio, forza, parte! Nonna Maria invece che dice? No, vince, lui è bravo! È bravo, vediamo allora! Il mio è il suo cappadello! Vediamo, 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 vediamo! Tò! 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 Cammina, va! Tò! Viglioso! Intanto di qui le grandi cucine prevedo, eh! Che stai a fare? Le tagliatelle? Davvero? Bravo! E dopo chi le magna? Eh, le magno io! Che si respira un'aria? Eh? Un'aria di che? Eh, l'aria buona legata con i tagliatelli! Che si respira? Eh, se magna qui! Che si respira, però? Quello respira, imparco i pochioni! Oh! Ok, con la gianna si va! Non mi tocca le palline! Non mi tocca le palline! Vabbè! Non mi tocca le palline! Dai, allenati che poi... Che poi gioi con me! No, il costo di giochietto non ti inculisci! Anzi, com'è andata? Purtroppo non andava benissimo, ma... Ci siamo ripresi, eh! Ho perso! Ci siamo ripresi! Pazzo! Ho perso un'altra volta! Però lo smucchio? No, hai estratto tanta roba! Conto! Insomma, come ho giocato? Eh, niente! Ho giocato bene, però... Se sta bravo, dai! Un po' di niente! Eh, lo so! Però, vabbè! Ce l'ho stato sfortunato! Eh, vabbè! La fortuna non è per gli artisti! Tu sei un artista! La vita! Eh, sì! Artista della vita, curarsi! Poi tocca il cingillano! Poi tocca tutto! Che spettacolo! Posso tirare anche il pelo sui bracci? Eh! Anche il pelo sui bracci? Quanto è bello, mister! Mi si è mancato! Beh, mi calcolano l'olio! Quando gioiai con me a padre? Allora, da lunedì sono operativo! Vai! 25 giorni che soffermo! 25 giorni che sta su sta seggiola! Da lunedì è operativo! Quindi faremo un doppio-triplo, vabbè! Adesso, sinistro, antipasto misto! Comunque, sto filtro qualcosa non va, eh! Cioè, come va? Eh? Ma, vista, vabbè! Sto filtro non va bene! Ma, ma anche il mio! A casa, cioè, veramente, c'ho un po' fame, tutto quanto! Lui che fa? Che fa? Magno! Che fa? Magno! Che fa? Ma, va, 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 va! Oh, io niente, vedi, un'altra volta, cioè, io veramente! Ma ti sembra il caso? Eh, bene! Cercano il codro che fanno le iniezioni! Ma, poca, fai a tutti qui il telefono! E tu che gli hai fatto? Niente, gli ho fatto una perraggia! Ho fatto il telefono, una perraggia! E poi, va! E dopo che è successo? Eh, io ne so chi era! E dopo hanno chiamato? Eh? Hanno chiamato? No! Ma poi che è successo? Oh! Che è successo? Niente! E ma dopo che è successo? Eh, ma poi che ti ha chiamato, che ti ha chiamato, e dopo che ti ha chiamato, che ti ha chiamato? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Che è successo? Tocca! Toccaglielo le palline! No! Ma che hai detto adesso?